Per chi mi segue ormai da tempo sa che le pulizie per me sono veramente importanti, quindi per prima cosa quando mi sveglio faccio partire il mio robottino che mi aiuta tantissimo nelle pulizie di casa, dopodiché faccio subito il letto, per me la giornata inizia bene con un letto rifatto, quindi è la seconda cosa che faccio dopo aver fatto partire il mio amato robottino. Dopodiché vado a mettere le tazze della colazione all'interno della lavastoviglie, perché il lavandino pieno non mi piace. Questo video è in collaborazione con l'azienda Everdrop, che è un'azienda tedesca che dal 2019 si impegna per l'ambiente, creando prodotti per la casa, il bucato e la persona sostenibili con packaging riutilizzabili e ingredienti idrosolubili di origine vegetale. E proprio ora che sono in dolce attesa sapete quanto è importante per me non solo avere la casa pulita, ma anche utilizzare prodotti naturali, appunto anche in vista dell'arrivo del mio piccolino. Vado a riempire questa bellissima scatola di latta, specifica proprio per le pastiglie lavastoviglie, con le pastiglie lavastoviglie, che sono appunto naturali, e ne approfitto subito per utilizzarne una, così posso farla finalmente partire. Nel frattempo mi dedico anche a lavare il pavimento della cucina. Passo poi a pulire il lavello della cucina, andando a farvi anche vedere come si creano i detersivi con Everdrop. Basta inserire all'interno del flacone, che appunto potrete poi riutilizzare più e più volte, dell'acqua calda. E andiamo poi a mettere all'interno dell'acqua la bustina del detersivo specifico che dovete utilizzare. In questo caso appunto è quello per la cucina, che tra l'altro ha un profumo buonissimo. Andiamo quindi a mettere tutta la polvere all'interno dell'acqua, e poi andiamo a chiuderlo e a miscelarlo per bene. Andiamo ad utilizzarlo una volta che vediamo che il prodotto si è completamente sciolto. Come potete vedere il mio lavello è abbastanza sporco, quindi lo mettiamo subito alla prova. Ecco qua. Vado poi a rimuoverlo con una spugna inumidita, sempre di Everdrop, questa è in cellulosa 100% biodegradabile. Guardate già l'effetto con l'etersivo cucina, questa spugnetta è già pulita così. Risciacquo poi semplicemente con acqua. E asciugo. E guardate che risultato sorprendente. Ovviamente poi non posso non pulire il piano cottura dopo aver fatto colazione, quindi utilizzo sempre lo stesso detergente cucina. E poi mi dedico alla lavatrice, nello specifico devo lavare alcuni capi che ho già comprato per il mio piccolino, e quindi utilizzo un detersivo per lavatrice neutro, adatto a pelli sensibili e senza profumazioni, sempre di Everdrop. Mi piace l'idea di utilizzare prodotti naturali appunto sia per la casa ma anche per il bucato, in vista appunto dell'arrivo del mio piccolo. Partita la lavatrice vado a pulire i sanitari utilizzando il detergente bagno che ho creato nello stesso modo in cui ho creato quello per la cucina. Sempre con ingredienti naturali e anche qua con una profumazione meravigliosa. Utilizzo la loro spugna bagno, sempre in cellulosa biodegradabile. Io la sto utilizzando per il bagno, ma voi naturalmente potete utilizzarla per quello che volete, anche per lavare i piatti. Vado poi a igienizzare il WC, sapete che è una cosa a cui tengo tantissimo, e utilizzo appunto queste pastiglie che si vanno poi a sciogliere fervescenti all'interno del WC e la lascio agire. Mentre lei agisce vado nel frattempo a lavare anche il pavimento del bagno, così poi il bagno è finito. Vado a pulire anche le maniglie delle porte, è una cosa a cui tengo tantissimo perché si toccano tantissime volte durante la giornata. Utilizzo il detergente multiuso, quindi universale, sempre Everdrop. Guardate che meraviglia! Finite le pulizie, però mi piace anche rilassarmi, vado a dare da bere alle mie piante. È un'attività che mi rilassa e mi rigenera veramente tanto. Mi fa proprio stare bene. Come mi fa anche stare bene, dedicarmi del tempo, andandomi a fare semplicemente un buon caffè, che dopo le pulizie direi che ci sta tutto e ci vuole assolutamente. E per un ulteriore relax mi accendo una candela. Questa è sempre di Everdrop, in cera di colza, completamente naturale e ricaricabile. E dopodiché, finalmente, posso dedicarmi completamente al mio relax, leggendo un libro, bevendo il mio caffè, in una casa completamente pulita, in modo naturale. Vi lascio un codice sconto del 10% al link in infobox da utilizzare sul sito.